Il mio servizio giovane, nonostante si occupi di cronicità, quindi l'assurdo è un servizio nuovo, però di fatto si occupa di persone con lunga storia di tossicodipendenza o di ancondipendenza. Sono appartenenti all'autonomia, dove le persone comunque, io penso sempre che le chiave di casa, si ha un grosso significato di autonomia, dove la persona comunque entra e va. Le persone quindi è più una logica di stabilizzazione di quella che è la loro vita, quindi banalissimamente se a differenza di una comunità che gestisce la terapia farmacologica, quindi gli utenti, le persone si anche gestiscono la terapia farmacologica. Sono persone che spesso il problema della seguitudine è un problema, seppur emerge, dove abbiamo bisogno di relazioni, ma proprio nello stesso tempo con quell'ambiguità che non mi serve. In realtà per queste relazioni sono relazioni importanti, è un'esperienza interessante che spero che possa dare davvero la possibilità ad altre persone tempi, non sono tempi brevi, di permanenza.